Rompete le righe oggi in casa della Virtus Lanciano, ultimo allenamento e poi vacanze meritate per tutti. Si chiude così una stagione positiva per il calcio rosso-nero che anche il prossimo anno potrà fare bella mostra nel campionato cadetto. Un torneo importante, quello appena concluso e che ha visto anche un bel riconoscimento per Carlo Mammarella. Il capitano è stato infatti eletto miglior terzino sinistro della Serie B. Il riconoscimento è stato assegnato all'esperto difensore lunedì scorso nell'ambito della serata dell'ottava edizione del Gran Galà Top 11 della Serie B che si è tenuta a Rimini. Durante la cerimonia sono stati consegnati gli Oscar ai migliori giocatori e ai tecnici. Ovviamente la parte del Leone l'ha fatta il Carpi con quattro atleti premiati oltre al tecnico ex lancianese Fabrizio Castori. Tornando a Mammarella c'è da aggiungere che il difensore frentano è stato anche inserito nella classifica dei miglior assist men elaborata dalla Lega di Serie B in collaborazione con la Panini Modena. Mammarella è stato il secondo migliore nella speciale classifica dopo Rosina del Catania. In graduatori hanno trovato posto anche Treste Piccolo ma se la squadra potrà dedicarsi alle vacanze in società si continuerà a lavorare per farsi trovare pronti all'appuntamento con il calciomercato. Si ripartirà oltre che da Roberto D'Aversa anche dalla riconferma del nucleo storico che tante soddisfazioni ha regalato ai tifosi nelle ultime tre stagioni di Serie B.